Senti qua Luca, allora partiamo, io partirei a due cose, due cose voglio porti, visto che si parla tanto di fantascienza e come dicevamo insomma c'è un po' una riscoperta, a me sembra che soprattutto dopo Arrival di Villeneuve ci sia stato, come dire, un movimento che ha cominciato a riprendere un po' coraggio in questo genere. E' uno dei film migliori tra l'altro di genere degli ultimi decenni, bellissimo, bellissimo, lo adoro, l'abbiamo visto anche in diretta qui, ci siamo visti il film con un movie party mesi fa, è veramente un film straordinario, poi con la colonna sonora di Max Richter che ti fa venire le lacrime anche nelle mani, le lacrime nelle mani. E mi sembra che si sia avviato qualcosa e che quest'anno forse sia scattato qualcosa, perché abbiamo la serie di The Foundation, che tu mi hai detto ancora non hai visto le prime puntate, io sono impazzito a vedere, io adoro la fondazione di Asimov, avevo un timore immane di avvicinarmi a questa serie e mi è piaciuta tantissimo, per ora le prime due puntate veramente di grande qualità, e poi Dune che invece hai visto. Sì, ho visto. Da cosa dipende secondo te questo momento? Cioè c'è una sorta di spirito del tempo che spinge registi, autori ad avvicinarsi a questo genere? Allora, secondo me da un lato comunque c'è una questione cinematografica, cioè adesso sono sdoganati i film sopra le due ore e mezza, e questo comunque qualcosa fa perché prima investire su un progetto molto costoso che fosse così lungo, e comunque Dune è la prima metà praticamente del primo libro, esatto, del primo libro, e sono due ore e mezza di introduzione, però c'è stato tutta una serie di, diciamo, precedenti, di cui Il Signore degli Anelli comunque è uno dei casi, per cui la gente è disposta a vedersi due ore e mezza di film che finisce tronco, a caso, cioè ok, ciao, ci vediamo fra due o tre anni, e comunque non si lamenta della cosa. Questo già è una prima questione secondo me. Dopodiché dal lato ad esempio della fondazione c'è stata la scoperta del fatto che libri molto complessi possono essere affrontati in una serie perché questo non la sminuisce, cioè non sminuisce il contenuto, e questo forse c'è un po' di Game of Thrones dentro, cioè il successo di una serie così che è andata avanti per stagioni e stagioni ha fatto capire che si possono fare prodotti di estrema qualità, che implodono malissimamente sul finale, non parliamone, cioè veramente io ero turbato, ma da scelte a caso, nel senso, vabbè, comunque. Sì, però su questo, su questo, allora, apriamo la parentesi Game of Thrones, ci facciamo male. All'inizio dell'estate, io e Ari, a un certo punto io guardo, c'è questa scena, ok, io guardo Ari, è stato l'anno dei rewatch questo, che abbiamo visto un sacco di rewatch, e a un certo punto guardo Ari e dico, Ari ho un'idea malatissima, e lei mi guarda spaventata, perché quando io dico così, ci rivediamo Game of Thrones, e lì è proprio... Ma tutto o solo l'ultimo? Tutto, tutto, proprio, cioè, hai presente, senti qualcosa crollare, però ormai lei ha detto, non puoi più ritrattarlo, anche se fai finta di nulla, ogni volta che ti guardi negli occhi sai che quella cosa è avvenuta, quindi abbiamo ricominciato, l'abbiamo rivista tutta. Devo dire che la seconda visione, mi sono reso conto, che durante la prima visione, c'era il problema del tempo lunghissimo fra una serie e l'altra, cioè, la settima stagione fa comunque schifo, malissimo, la sesta fa comunque abbastanza traballare. Come fino alla quarta, quinta... Ecco, dalla quarta in poi, che a me, nella prima visione, aveva fatto schifo quasi tutto. Esatto. Mi sono reso conto che invece, vedendole un po' più strette, ti rendi conto di molte cose. Intanto, una cosa, non sei più attento alla trama, perché sai come va, e quindi fai attenzione ad altri elementi, che sono molto, molto sottili, certe volte. E due, tante scelte che inizialmente parevano assurde, ma perché avevi perso memoria di quello che era successo effettivamente, di alcuni dialoghi, lì invece tieni memoria. E quindi, devo dire che la seconda visione mi ha convinto molto di più. Poi, ripeto, la settima, soprattutto le ultime tre puntate... Non mi stai convincendo comunque a farne una seconda visione, sappi. No, non sto... Sto dicendo che mi sono sorpreso, perché io ho fatto il rewatch come farei il rewatch di Lost adesso, ok? Ok. Cioè, soltanto per stare male nella vita, ok? Leggevo recentemente un editoriale su come comunque Lost, meglio di così, non potesse finire. Questo è un... Guarda che smetti di farmi ridere così, smettila, smettila, ora siamo finiti per ridere tutta la... Capisco, però diciamo che ci sono comunque delle scelte di trama che non saranno mai giustificabili, cioè tipo come nella battaglia finale con White Walkers abbiano usato Yurucai, Akka, andate e morite, siete la nostra arma principale. No, sai perché l'hanno fatto? Perché non sono rientrati in quota 100, e quindi erano un po' esodati, un po' hanno rientrati in quota 100, hanno detto ragazzi dovevano andare a un lavoro, questi via dai Yurucai, sono passati vent'anni dai film del sinodennale, dai ridiamogli una prossima, è andata esattamente così, esattamente così. Vabbè, comunque diciamo che quello o come muore il secondo drago con... spoiler, con una freccia a caso che vaga. No, ma è qualcosa di straordinario. Sì, no, ci sono delle cose che veramente nell'ultima stagione stai lì e dici ma perché? Perché? Però ormai è andata così. Ma fino alle ultime 3-4 puntate della settima stagione devo dire che ha tenuto di più rispetto a quanto mi ricordassi. Questa cosa mi ha sorpreso, ho detto, ma sai che due o tre cose proprio sono fatte anche benino. Anche benino, addirittura, non decenti. No, no, anche benino, un paio di cose sono fatte anche benino, però vabbè, questo è digressione. No, ma diciamo che questo è stato comunque la prova che il pubblico non percepisce come appunto un qualcosa di serie B, una trama complessa in una fiction, comunque diciamo in una serie TV e questo ha concesso anche grossi investimenti. mi viene in mente il caso di Amazon che sta investendo sulla serie del Signore degli Anelli, tratta probabilmente, non si sa bene benissimo, è dal Sir Marillion e investendo non so quanti miliardi, un miliardo di dollari di produzione. Di cui 400 milioni di diritti alla tua chiedizione. Di diritti, vabbè, ci può stare, voglio dire. Sai che mi hanno convinto a scrivere una grande saga fantasy? Che però deve diventare famosa come... Lo diventerà? Che sono sti dubbi? Che sono sti dubbi? Hai ragione, è colpa mia. E quindi diciamo che c'è, si è visto che c'è un pubblico, si è visto che questo pubblico sa essere appassionato e genera ricavi, perché poi si è sempre lì, e quindi si stanno trovando tante perle della fantascienza passata che magari erano state affrontate male o che non erano proprio state affrontate e si sta avendo il coraggio di investirci sopra. Speriamo che arrivi a qualcosa di buono. A me Dune è molto piaciuto, devo dire, il primo film. Non è ovviamente il libro, però quello niente, cioè non mi viene in mente nessun caso in cui il film è strepitoso al pari di un libro. Certo, certo. E quindi è un po' lento Dune, eh vabbè, ma è lento anche, ne discutevamo prima, anche il libro è parzialmente lento in determinate situazioni. Il problema del cinema è, ne parlavamo anche con Corrado Pollini la settimana scorsa, è che il cinema è immagine, ok? Quella parte in cui sono nel deserto diventa veramente ripetitiva e per quanto tu ci metti un ritmo, una bellissima musica, poi lì a Zimmer veramente, ragazzi. In questi giorni mi sto ascoltando la colonna sonora, è bellissima la colonna sonora, ma anche i momenti secondari sono proprio belli, belli, belli. È una delle opere migliori di Zimmer, io sono un ascoltatore seriale di colonne sonore, adoro, ecco, quindi ci capiamo. Lì Zimmer ha veramente dato alcune cose del suo best of, e il problema è appunto che, come ho sempre percepito, Dune è un film difficilissimo da trasporre in immagine, perché ci sono delle scelte dell'autore che tu non puoi bypassare, cioè non puoi saltartela a quella parte nel deserto. Infatti sono anche molto curioso di vedere come tratteranno tutto il discorso poi dell'addestramento, sarà interessante vedere. E diventano così. Secondo me Villeneuve non poteva fare di meglio. Cioè questa è la percezione che ho avuto io. Sono dell'idea che abbia fatto un bel film, a me comunque è piaciuto molto, aspetto il secondo. Vediamo, vediamo, vediamo. Anche perché lei dovrebbe prendere un po' più di... Per ora... Zendaya. Sì, per ora apparizione e poi fa più o meno la stronza per 20 secondi. Esatto, esatto, friendzone! Però è interessante quello che dici, perché hai preso... Una cosa che non mi aspettava, hai preso un lato tecnico di pubblico, cioè nel senso è... Il pubblico è abituato a vedere certe cose, sa accettarle di più, quindi... Non ti pare che questa riscoperta della fantascienza abbia anche un po' a che vedere con il tipo di problemi con cui stiamo avendo a che fare? Ti faccio soltanto un esempio, ok? Pensa al cambiamento climatico, ma pensa anche soltanto alla pandemia, sono cose di ampissimo respiro. Cioè la gente si sta un po' più abituando anche a prendere in considerazione storie che esulano da quello che è il destino di un singolo personaggio, una storia singola. Quindi problemi che... Su grandi scale. Su grandi scale. Tipo il ciclo della fondazione. Esatto, perché la fantascienza è sempre stata quella roba lì, capito? E ti prendo dei problemi che magari tu senti nella tua vita, ma li amplio su scala planetaria, su scala universale. E se la fantascienza ha avuto un momento di crisi, che secondo me va fra metà degli anni 90 e fino al 2010-2011, in cui effettivamente secondo me i grandi film di fantascienza si contano sulle dita di una mano, Moon, Mr. Nobody, ce ne sono alcuni di molto carini, però è stata poverella. È molto ripetitiva, tanti remake, tanti sequel, prequel e via dicendo. Forse perché in quel periodo lì non ci ponevamo più dei problemi che la fantascienza poteva indirizzare un po'. Questa è una sensazione che ho io. È una lettura interessante. Dall'altra parte però io ho visto ad esempio in Dune riportare una roba di un altro sistema planetario, un'altra galassia, anche ai problemi terrestri. Perché ad esempio la metafora fra gli abitanti del deserto e l'Afghanistan io l'ho vista abbastanza diretta. Quindi c'è anche, da un lato è vero, come dici tu, che forse ci siamo abituati ad analizzare problemi su grandi scale temporali, su grandi dimensioni. Dall'altro abbiamo capito che la fantascienza, così come prima erano magari i film storici o i drammi, può essere uno strumento per fare analisi anche sociologica. Che in fondo è sempre stato così nei libri di fantascienza. La fantascienza ha sempre avuto dei risvolti sociali, delle morali, dava, analizzava dei problemi, poi non a caso si analizzano molto i sistemi politici nei libri di fantascienza. Ecco, questa cosa si è trasferita anche al cinema. Stiamo riuscendo a portarla anche verso il cinema. E quindi c'è più propensione anche proprio a investire in queste cose qua, a parte che adesso, cosa vuoi, Dune è un film per pochi. Cioè nel senso, per quanto sia un blockbusterone incredibile, però è un film per pochi, perché non è un film facile. Tutto il discorso delle Bene Gesserit, questa filosofia stoica particolarissima, tutto il complotto che sta dietro, che poi c'è un minimo spiegone nel libro, scusami, nel film, che però non lo fa pesare troppo. Hanno messo i documentari, c'è questa cosa carina che ogni tanto lui si guarda i documentari. Esatto, che non è male come scelta, però è un film per pochi e in effetti non so se tu hai notizie, però il secondo, che dovrebbe essere per il 2022 già, però so che ho visto delle notizie in cui si diceva sì, cioè aspettiamo a vedere come va il box office, se non sbaglio. Quindi forse lì il punto di domanda c'è ancora sul fatto che si arriverà alla fine, almeno del primo libro. Sarebbe il caso, mettiamola così. Allora io ti dico, sembra che abbiano puntato comunque moltissimo, quindi la scommessa spero la portino fino in fondo. C'è il rischio box office sicuro sempre, diciamo che il film è strutturato proprio per avere il secondo, cioè almeno il secondo deve esserci, perché sennò è veramente tutta roba a caso. E a me piacerebbe, visto che tu hai fatto il rewatch di tutto Game of Thrones, a me piacerebbe farmi la maratonina dei due film, perché il primo film sicuramente sarà più lento per determinate caratteristiche, sta fondando diciamo le basi per poi creare una saga planetaria, interplanetaria e galattica. Quindi vorrei vedere poi il bilanciamento all'interno di entrambi i film, come sarà. Il Signore degli Anelli non era male, devo dire, il bilanciamento l'ha saputo fare, molto più che nell'Hobbit, nella mia testa, ma non esiste, è vero, non è mai stato girato. Ma ci mancherebbe, nessuno ha mai dato un centesimo per quel progetto, è fallito miseramente. E quindi mi piacerebbe appunto rivedere Dune 1 e Dune 2 tutti assieme, però ecco, a me il problema della lentezza non è arrivato troppo, sarà che io da Astro Coso sono abituato ai tempi lunghi, nel senso guardare il cielo senza che nulla accada per ore, quindi tutto sommato Dune. I tempi lunghi, mi viene in mente, mi viene visto che, io ripeto, io ve lo consiglio, se avete Apple TV guardatevele alle prime due puntate, la fondazione veramente merita. E sui tempi lunghi c'è quel concetto lì, a me, ecco vedi, se entriamo nel discorso di Asimov, la cosa che ho sempre amato di più, non faccio nessuno spoiler, però c'è l'hanno messa ed è centrale proprio nell'inizio della fondazione, che è proprio il progetto, che è quello di Harry Seldon, che è un concetto che veramente Asimov racconta per primo nella storia dello scibile umano, cioè l'idea che la cultura non è nient'altro che la traccia che noi lasciamo a quelli che verranno dopo. È una roba che io quando l'ho letta, la prima volta che ho letto la fondazione, ho avuto, cioè proprio, ho avuto come uno smottamento interno, ok? Perché ho detto, ecco perché facciamo quello che facciamo. Da un lato c'è appunto l'idea che tu lasci una traccia per i posteri, dall'altro produrre cultura significa anche rendersi conto che quello che vivi finirà. Nella fondazione c'è questa idea che è al tempo stesso angosciante e ispirante, ok? Tu sai che finirà. Non produrremmo mai quello che produciamo se non per permettere a chi verrà dopo, quando quello che abbiamo fatto sarà dimenticato di non dover reinventare la ruota. È un'idea straordinaria. Molto bella. E ogni tanto ci penso e dico, sai, ti metti a fantasticare sulla storia di questo piccolo mondo su cui noi siamo da poco tempo, peraltro. Ti rendi conto che, in fin dei conti, noi come umanità abbiamo, diciamo, 8 mila anni di storia, ok? Noi ricordiamo gli ultimi 8 mila anni, in realtà anche molto di meno, perché ricordare gli ultimi 4.500. Poi abbiamo tracce anche un po' più antiche. E tu sai che invece l'homo sapiens, insomma, girovaga per il pianeta da quanto? 200-300 mila anni. Esatto, 250 mila anni circa. E dici, vabbè, in questi 250 mila anni siamo stati sempre effettivamente dei cacciatori raccoglitori in giro. Alla fine la conformazione cerebrale, bene o male, non è cambiata così tanto. Quindi la nostra intelligenza. E allora ti fai la domanda e dici, ma può essere effettivamente capitato che nel corso di questa storia incredibile, di questo lunghissimo abisso della storia, ci siano stati dei momenti in cui la civiltà sia avanzata fino a un certo punto e che però non sia riuscita a lasciare una traccia poi? Perché poi, insomma, gli eventi naturali cancellano velocemente le nostre tracce. Secondo te è plausibile intanto? È assolutamente plausibile secondo me e tra l'altro mi è capitato ultimamente, siccome con un lavoro che abbiamo fatto assieme ad Adrian Fartade, ci siamo messi a riguardare proprio tutta la storia dell'astronomia e dell'astrofisica e ci siamo resi conto come migliaia di anni fa qualcuno abbia avuto un'idea che se solo si fosse riuscita a trasmettere meglio avrebbe forse accorciato, diciamo, la strada per determinate scoperte di qualche secolo. Certo. E poi però lì quello che noi dobbiamo evitare è di vederla in maniera finalistica, cioè come se lui avesse fatto questa cosa per bene, noi oggi finiremmo su Marte tranquillamente con un viaggio breve. Però in fondo la scienza è una roba molto tentacolare. Ecco, quando Darwin diceva che l'evoluzione non è un corallo, cioè è un corallo e non una linea. Ecco, la stessa cosa ha la cultura da questo punto di vista. Ci sono delle strade che ogni tanto vengono abbandonate, vengono recuperate magari millenni dopo. Purtroppo ci sono anche delle volontà alle volte di interrompere le strade. Mi vengono in mente i casi degli imperatori cinesi che praticamente cercavano di affossare tutta quella che era la conoscenza relativa all'imperatore precedente, perché così loro... D'abnazio, memorie. Esattamente. La cancel culture di tempi non sospetti, no? E quindi diciamo che da un lato ci abbiamo messo del nostro per creare dei vuoti dal punto di vista storico-culturale. Dall'altro però in fondo è un processo molto umano. Io la vedo come proprio rappresenta perfettamente quello che siamo. Abbiamo alle volte delle idee, poi le abbandoniamo. Ogni tanto abbiamo delle idee ottime, ma non ci fidiamo al 100%. Ogni tanto invece cerchiamo di affossare le idee degli altri. Quindi diciamo che alla fine la scienza è un'attività umana. La facciamo per fine egoistico noi, cioè nel senso la facciamo... Può essere la gloria personale, può essere la curiosità, può essere l'ispirazione. E lì è bellissima, se ti ricordi insomma c'è la parte nel libro di Asimov, c'è la parte del processo a Dari Seldon, in cui qual è il dubbio dei politici? Il dubbio dei politici è, ok, questa persona ci dice che la civiltà sta per finire. Bello, grazie, ok, perfetto. Gli crediamo, non gli crediamo. No, il vero problema è, lui vuole dire questo e vuole questo progetto della fondazione per lasciare... Lo vuole fare per la sua propria gloria? Gloria personale, certo. O per effettivamente altruismo? Perché è difficilissimo credere. E in effetti Asimov è molto bravo in questo, non ti dà mai veramente l'introspezione nell'animo di Seldon per dire, lui crede veramente soltanto a quella roba lì. Lascia molte zone grigie. Lascia molte zone grigie e quindi è un personaggio che rimane nell'ambiguità e tu dici, ok, chi è che farebbe veramente, chi è che sacrificherebbe la sua vita, il suo genio, il suo tempo per lasciare qualcosa a chi verrà fra migliaia di anni senza sapere se effettivamente rimarrà. Quella roba lì è un dubbio che ci assale. Come dici, giustamente... Non so se è risolvibile. Non è risolvibile perché non possiamo entrare nella testa di qualcuno. Allora, io ti dico, in un mondo di frutta candita, sarebbe bello se gli scienziati... A me fa cagare la frutta candita proprio... Anche a me non è che sia la cosa che piace di più, però è l'immagine che... In un mondo di bignè, mettiamo una cosa di... Ok, già meglio, già meglio. In un mondo di bignè, la cosa che mi piace della scienza è il fatto che ci si basi sulla frase di Bernardo Isciardo, siamo nani sulle spalle dei giganti. Perché alla fine non è importante chi arriva all'obiettivo, è importante che la comunità arrivi all'obiettivo e quindi oggi noi possiamo salire sulla torre di Pisa e guardare l'orizzonte guardando lontano. Non è importante chi ha messo i gradini della torre di Pisa, è importante che uno ci possa salire sopra. Questo, dicevo, in un mondo di bignè. Però come fai a stabilire se il tuo gesto altruistico, che comunque in un modo o nell'altro porterà avanti il tuo nome, non sia in parte vanità. Non lo saprai mai. Lo sai nel momento in cui il gesto è tale per cui quel nome non verrà portato avanti. Se uno sacrifica la memoria, diciamo, del suo nome per il bene della comunità, della collettività, allora quello lo possiamo considerare altruismo. Ma anche lì poi c'è tutto il discorso, però è vanesio nei confronti di se stesso, magari, che si sente superiore a lui. Cioè, quindi, boh, non so. È la grande denuncia che si faceva dei cristiani. Eh, bravi, bravi, l'altruismo, beh, lo fatti per la vita eterna. Esatto. Non lo faccio mica per la vita, lo faccio perché voglio bene l'umanità, però poi c'hai la vita eterna e c'è sto trucchetto. Poi, tra l'altro, l'altruismo a livello evolutivo è un casino, cioè non si capisce per bene come funzioni e quindi, boh, non lo so. Però è una cosa, anche qui, il fatto di rifletterci è una cosa molto umana. È una cosa umana, è una cosa umana, è vero. Cioè, metti in discussione e poi si arriva lì in cui Ariseldon dice, lo faccio per lasciare una traccia e impedire, cosa dice qui, 15.000 anni, mi sembra, lui dice di medioevo galattico e accorciarlo a soli 500 anni, mille anni, però l'imperatore dice, aspetta un attimo, aspetta una seconda. Io non ti credo mica, secondo me vuoi prendere il mio posto. Tra l'altro, poi, anche lì, chi vive in quei 500.000 anni è quello che si sacrifica. Esatto, esatto. Quindi in un modo o nell'altro. Però, come dicevamo prima, la fantascienza ha di bello questo, che fa delle analisi anche sociologiche, analizza anche le persone che l'hanno scritta e le società e quindi forse questo è il grande fascino, più che i mondi lontani. No, ma infatti è una, diciamo così, i macro problemi che vengono posti sono un cavallo di troia, cioè nel senso hai il modo per farti affascinare e poi ti viene posta una domanda che ti mette sotto sguardo, è un po' uno specchio, quindi devi guardarti, questo è il bello della fantascienza. Tornando sul discorso della nostra storia, visto che appunto tu l'hai approfondito, leggevo un articolo, io non mi ricordo su quale, testata, forse su New Yorker mi pare qualche tempo fa, c'era un articolo di un paleontologo in dialogo con un biologo in cui discutevano appunto di quello che poteva essere successo nei 250 mila anni prima dell'inizio della nostra storia scritta. E allora il paleontologo a un certo punto dice sì, perché dobbiamo ricordarci che nella Terra ci sono tantissime cose che potrebbero essere tracce di cose che però non sono più tracce. Per esempio lui dice che ci sono tantissimi materiali fossili, di cui noi non abbiamo minimamente idea di come sono formati, non conosciamo il processo chimico, non conosciamo, però sono lì e sono in quantità enormi. E quindi in realtà potrebbe essere che ci sia stato qualcosa che magari ha anche cercato di lasciare una traccia, ma poi la natura è talmente potente e riesce a schiacciare talmente tanto velocemente che trasforma tutto quanto molto velocemente, quindi non ci arriva nulla. E ogni tanto mi chiedo allora cosa che stiamo lasciando noi? Cioè ogni tanto senti gli Harry Seldon che dicono guardate che ragazzi qua fra qualche decennio mi sa che non ci gira più benissimo. Sì, vendiamente sono io. Sei tu ese. No, io di solito cerco di essere un po' meno perché ormai i profetti di Sventura ci sono ogni secolo tantissimi, quindi ormai c'è nel senso... Cerchi di discostarsi. Cerchi di dire ok, vediamo cosa si può fare piuttosto. però quella domanda me la pongo. Abbiamo prodotto qualcosa secondo te che potrebbe resistere a un cataclisma veramente devastante che possa cancellare le tracce che abbiamo lasciato più o meno altruisticamente? Spero non sia il neomelodico. Dallazione, pensati che civiltà viene fuori poi. Non lo so, però a parte questo non lo so se abbiamo... Che civiltà verrebbe fuori con il neomelodico come nuova Bibbia. Allora, guarda, da questo punto di vista potrei dire che se non si parla di tempi scala di molte migliaia di anni, diciamo che le sonde che abbiamo mandato nello spazio profondo contengono tracce interessanti della nostra cultura, perché ci sono state messe all'interno... Il disco d'oro. Il disco d'oro, ad esempio. O il... Sì, direi il disco d'oro, il segnale di Arecibo, il segnale radio di Arecibo. Abbiamo scoperto che l'abbiamo sparato verso una zona del cosmo dove probabilmente non c'è niente ad ascoltarci, quindi l'abbiamo... È una cosa bellissima, questa non la sapevo. Sì, noi abbiamo beccato un ammasso di stelle dicendo ce ne sono tante, quindi mando in quella direzione e ho più probabilità che attorno a quelle stelle vivano delle civiltà. Poi con l'avanzare, diciamo, della nostra conoscenza ci siamo resi conto che quelle stelle non sono il posto migliore per avere dei pianeti abitati. Questo fatto ridefinisce completamente il modo di dire fare un buco nell'acqua. Sì, assolutamente. Hai fatto un buco nel cosmo. Nel cosmo. Ho mandato un segnale convintissimo, pensandoci anche sopra un sacco, e l'ho mandato nel posto sbagliato. Mi immagino, scusa, mi immagino però tipo una civiltà o anche soltanto un'entità aliena che rottasse il cazzo di tutta la luce, tutto il casino dell'universo, si è messa là, ok? E noi l'abbiamo raggiunto, questo fa così, ma che cazzo volete voi? Mi sono messo qua per non farmi rompere i coglioni di nessuno. Tra l'altro io che so cosa c'è scritto dentro fatico a ritrovare quel significato, quindi secondo me non lo capiranno mai. Però diciamo che i dischi d'oro sono un qualcosa che per migliaia di anni potrebbe resistere. E quindi la mia speranza è che se anche domani finisse l'umanità, un qualcosa di noi per qualche migliaio di anni può reggere. Però il disco d'oro è lontano dalla Terra. Io parlo di qualcosa, io parlo di, faccio un esempio, faccio l'esempio della macchina del tempo di Wells, ok? Certo. Passano 500.000 anni dal momento in cui la civiltà collassa, sottoterra continua a permanere un humus che fa sopravvivere almeno la nostra genetica e dopo quando il pianeta si rimette in sesto usciamo di nuovo, ok? Quando usciamo troveremo qualcosa di quello che quelli prima di noi hanno prodotto. Cioè questa è la domanda. Perché alcuni dicono i satelliti. Sì ma raggiungi lì cazzo i satelliti. No esatto, i satelliti è vero. Anche perché prima o poi bruciano in atmosfera. No, sai che paradossalmente più che ciò che abbiamo prodotto noi è ciò che hanno prodotto i nostri antenati. Cioè io credo che possano reggere meglio le piramidi alla nostra tecnologia e quindi la nostra tecnologia basta pochissimo. Stavo parlando con un ricercatore che fa macchine a guida autonoma e lui diceva noi siamo convinti l'intelligenza artificiale è intelligentissima, le macchine ci sopravvivranno, abbiamo questa idea dalla fantascienza che è holocausto nucleare e le macchine prendono il sopravvento. Le macchine resistono molto peggio di noi alle radiazioni banalmente. E quindi ogni volta che noi cambiamo un supporto, io penso ai floppy floppy, proprio quelli che enormi, che erano tutti molli, quanto sono durati uno sputo di tempo, poi i floppy più rigidi, meno che meno. A un certo punto avevamo detto il CD è la cosa perso, adesso Blu-ray la stessa cosa. Quindi noi continuiamo a cambiare dei supporti, i dischi, gli hard disk erano magnetici, prima ruotavano pezzi, adesso abbiamo gli stato solido, però sono tutta roba che alla fine se tu guardi sui decenni, nell'arco dei decenni, non regge bene quanto la carta, non regge bene quanto la pietra. E quindi io temo che capitasse adesso qualcosa e fra centomila anni uscissero gli uomini dalla terra. Tra l'altro mi hai ricordato La macchina nel tempo come libro, ok, ma poi io ho ripensato purtroppo al film, che è una cosa agghiacciante. con Jeremy Irons, puffo, con i mochilocchi che sembrano degli puffi. Era una cosa terrificante. È veramente, è veramente. È uno di quei film che Jeremy Irons ha fatto perché aveva bisogno di soldi. Sì, evidente. No, ma tra l'altro è uno di quei film che a me ha insegnato una grande verità, che gli americani sanno fare bene i trailer, perché il trailer era bello, mentre poi il film era la schifo assoluto. Mentre in Italia abbiamo spesso il problema contrario, non sappiamo fare i trailer. Magari poi il film è anche decente. Però nessuno va a vederselo. Quindi se tra centomila anni uscissero le persone di nuovo, o chi per loro, diciamo, i nostri discendenti da terra, io temo troverebbero più templi egizi o rovine greco-romane che roba nostra. Questo credo che sia veramente un metro vero per dire quanto una civiltà possa avere successo. Di nuovo, è decadentismo dirlo, è un po' triste dirlo, però veramente la cultura viene fatta per lasciare una traccia il più a lungo possibile. Uno scrittore scrive un'opera, anche quando hai il tuo romanzo nel cassetto, però in qualche modo c'è una parte di te che dice questa roba qua fra 500 anni deve esserci, deve resistere. E davvero mi hai aperto un cassetto della memoria. Non so se hai mai visto il film The Day After. Sì. È quello sulla bomba atomica. Anni 70, bellissimo, film angoscioso. Io lo vidi per la mia tesi di laurea, perché io feci una tesi sulla bomba atomica. Una roba attiva, sì. E quindi ho visto il film e c'è una scena che subito io non ho capito, perché quando tu vedi le macchine in autostrada e c'è Manhattan e vedi il fungo atomico, tutte le macchine si fermano e tu non capisci perché. E ho detto, oh che cazzo, è l'onda elettromagnetica. È l'IMP. Londra elettromagnetica disintegra tutti i circuiti nell'arco di centinaia di chilometri e non ce ne rendiamo conto di quanto è fragile. E anche lì mi è venuto in mente mentre parlavi fuga da Los Angeles, il finale con Jena Plinsky che spegne il pianeta. Quanto è figa quella scena. È molto bella. È molto bella. Clic. Benvenuti nell'era degli animali, dice. Cosa che dice alla fine? The Age of the Beasts dovrebbe essere in inglese. Infatti io stavo pensando a bestie, però in italiano non mi ricordo come lo traducono. Io non l'ho visto in italiano. Eh no, no, anch'io, anch'io. Age of the Beasts mi sembra sia. Ed è una scena fighissima e però è una scena che ti dice, oh guarda che abbiamo costruito una civiltà che fa delle cose spettacolari, bellissime, ma basta così. Pensa tutto al cloud, ok? Adesso facciamo questa roba. Oh, che figo, il cloud. C'ho dappertutto i documenti, le foto, posso prendere Photoshop, lo uso qua e poi lo uso in treno. Sì, però il cloud è un server, è lì. E se quella roba viene meno mettici tutta la ridondanza che vuoi. Quello che vuoi però è fragile. C'è stato il caso, cos'è stato? Qualche mese fa che un enorme stabilimento pieno di server per il cloud ha preso fuoco, mi pare in Francia. Sì, 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 è vero. E tra l'altro i sistemi di ridondanza pure, quindi è bruciato tutto. È sparito un pezzo di internet che noi consideriamo, ah se una cosa va su internet è per l'eternità. Invece no. Sparito un pezzo di internet in una notte in cui ha preso fuoco. Quindi per questo dico, temo che possa reggere più questo tavolo in giuste condizioni che quello che c'è. Quello che l'abbiamo pagato spero veramente. Spero, esatto. E' una speranza. E' più lungo della superficie terrestre. Quindi voglio dire, c'è un investimento. C'è David Puente in chat che dice se mandiamo nello spazio un video del brigliadori ci mandano l'asteroide. Giusto, giusto. Pensa se Trump avesse scelto cosa mettere in quel disco d'oro. Mandano Silver Surfer subito a farci secchi, insieme a Galactus però. Ci mettono insieme e ci fanno un mazzo così. Quindi diciamo che appunto temo che quello che noi stiamo costruendo sia quasi una tradizione orale come fragilità. Sì, sì, è interessante questo. E quindi speriamo che non ci siano salti, diciamo. Perché se c'è un salto io temo che buona parte delle cose si perdano. Negli ultimi cosa? Magari 300 anni? Sì, sì. Potrei dire, sì, quattro secoli. Io poi tendo a ragionare in termini diciamo scientifici. Per me la scienza inizia nel 1609, Galileo Galilei. Quindi ti potrei dire da lì in avanti quello che abbiamo costruito è un qualcosa di bellissimo, meraviglioso. È uno dei più grossi tesori che ha l'umanità nella mia testa. la scienza e il metodo scientifico, ma è fragilissimo. È fragilissimo. È anche difficile da proteggere poi dai contemporanei. Assolutamente. Questo sì, è la fragilità che contraddistingue. Sai, alcuni romantici, fra cui il sottoscritto, direbbe che è proprio perché è fragile che è importante. Assolutamente. Però poi quello romanticissimo te lo fichi su per il culo quando succede qualcosa che ti fa dire, ah no, era meglio proteggerlo di più. Poi diciamo che anche la carta, perché a me viene in mente l'incendio della biblioteca di Alessandra, ricordiamoci che 7000 anni di storia lì. Sì, 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 sì. Quindi la fragilità contraddistingue la nostra cultura. È per questo che mi chiedo sempre quella cosa lì, dico, ma in tempi non umani ma geologici, riusciamo o riusciremo a produrre qualcosa? Perché sai quella è la cosa triste? La cosa triste è pensare che l'unico elemento che veramente potremmo lasciare come traccia sia ciò che di negativo abbiamo fatto. Sì, stavo pensando a quello. L'erosione delle coste la lasciamo. L'erosione delle coste, sì, no. E in effetti se ci pensi bene, quella cosa dicevo prima, ok, le tracce fossili, ok, quindi il petrolio, quindi i fossili che troviamo, che oggi tiriamo fuori e usiamo per i combustibili, non potrebbero forse essere la traccia involontaria lasciata da qualcuno? Perché effettivamente ogni tanto ci penso, dico, non può essere una traccia, magari è una traccia di qualcosa che c'era prima, non può essere una traccia volontaria, o se lo era è diventata una roba che non potevano immaginare. Perché noi poi ci siamo dovuti reinventare tutto effettivamente. Tu dici, magari il nostro cemento armato tra qualche millennio... Chissà cosa diventa, chissà cosa diventa, magari diventa un combustibile, una nuova fonte energetica. Però la scrittura, cioè resti lì e dici, come faccio a far arrivare fra 300 mila anni la scrittura? Come faccio a far capire a qualcuno che facendo dei segni tu puoi accelerare di tantissimo lo sviluppo della tua esistenza? Soprattutto quando ti rendi conto di cosa c'è lì fuori? Cioè abbiamo parlato del cloud, ora tu sei un astrocoso, quindi ne sai qualcosa più di me. Però per esempio il solar flare, quanto è alta la probabilità che adesso un solar flare fermi questa trasmissione e non solo? Allora, fortunatamente non è elevatissima, però voi considerate che c'è una eruzione solare di un certo livello ogni tre giorni circa in media. E nel 1850 circa, un secolo e mezzo fa, c'è stata un'eruzione solare, una tempesta solare che se ci fosse stata oggi avrebbe bruciato buona parte dei satelliti delle telecomunicazioni. credo nel 1859. Quindi mica tanto tempo fa. No, infatti 150 anni fa, in termini astrofisici neanche l'altro ieri o ieri è stamattina. Quindi se ci fosse stato adesso non avremmo perso buona parte dei satelliti delle telecomunicazioni, che è un casino. Cioè, voglio dire, è un problema. Quindi diciamo che c'è una probabilità e purtroppo noi ciò che mandiamo lì fuori ad alta tecnologia, solitamente maggiore la tecnologia e più fragile è. Sì, 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 sì. E quindi questo è un qualcosa. Cioè, la lastra di pietra con inciso perri, tecnologia zero, però quella cosa magari fra diecimila anni la ritrovano e poi si chiedono chi è sto idiota. Però... Cazzo c'è scritto! Però se la trovano, già un qualcosa che è più tecnologico, il bicchiere, eh già, le probabilità scendono. E poi, man mano ci allontaniamo da quella che è lo scudo protettivo dell'atmosfera terrestre, che per fortuna ancora al momento abbiamo, tutto ciò che porteremo fuori, che sarà il nostro modo di urlare all'universo ci siamo anche noi, in realtà lo esporremo sempre di più a potenziali problematiche e magari non sempre risolvibili. Quindi, man mano noi usciamo fuori, corriamo rischi, ma quello è normale, ci stai nel gioco. Però corriamo anche il rischio davvero di essere sempre più fragili. Certo. È interessante questa cosa qua, perché la lastra con scritto perri la potresti fare persino tu. Cioè, nel senso, la cosa più specializzata diventa la cosa, più fragili diventa. Cioè, lo so che sembra una roba, è letteralmente un pensiero quasi luddista questo, ok? La cosa più è basilare, più è fattibile, senza specializzazioni, più ha potenzialità di rimanere. Forse anche perché è molto maggiore la ridondanza. Cioè, se io adesso prendo 50 persone qui in Centroschioli e gli dico, fate una lastra di pietra, ho scritto perri, ok? Vi do 10 euro a testa. Credo che su 50... investimento comunque è discutibile. Vabbè, ma per amore della conoscenza. Tanto abbonatevi così, insomma, facciamo questo investimento. Cazzo, lo facciamo veramente? Perché adesso lo facciamo veramente? 3.000 lastre con scritto perri. 3.000 è diventato troppo. 50 persone, una lastra a testa, 50 lastre, sono 500 euro. 500 euro di lastre, Fede. Fatte a mano dalla gente. Va bene. Con scritto perri, peraltro. Fede ormai è succube di queste idee di merda. Io non ho capacità decisionale in questo studio. Quindi abbiamo un lavallo involontario di Fede. Quella roba lì potrebbe farla veramente chiunque. Cioè, nel senso, sì, poi magari uno la fa male, però la fai. Cioè, prendi un martello, uno scalpello e la fai. Cazzo, fare un microcircuito è invece una roba che quante persone sanno fare in centroschio. Se le prendo, una su... È vero. Capito. E tra l'altro è una cosa che, ritornando al fatto che questa è una roba molto umana, potremmo dire, e la scienza è molto umana, è anche ciò di cui ci siamo resi conto adesso. Cioè, noi ci siamo, negli ultimi secoli, ultra specializzati anche nella conoscenza scientifica. Io ho il mio dottorato nella mia cosa, che nello specifico è progettazione e costruzione di pezzi di telescopi. Però è una cosa estremamente settoriale, che rende fragile la mia visione scientifica, perché io a questo punto ho un solo punto di vista, il mio, su cui ho basato i miei studi per un sacco di anni. Motivo per cui adesso si sta cercando di ritornare ai team multidisciplinari, eccetera, alle cooperazioni, perché in questo modo si va a togliere questo limite dell'ultra specializzazione. La scienza funziona un po' come la tecnologia in questo, cioè man mano si ultra specializza, si eleva, però inizia ad avere più limiti. Guarda, ho fatto una puntata proprio pochi giorni fa su questo, del rapporto fra il filosofo, lo scienziato e il poeta, ok? Lo scienziato è quello che, adottando un approccio empirico, intanto deve considerare gli oggetti come solo oggetti. Cioè, quel bicchiere, quando lo porti in laboratorio, è il bicchiere, non è ciò che simboleggia, non è il significato, è il bicchiere, è quel materiale, stop. E se è un fisico è una sfera? È una sfera. È una sfera nel vuoto, questo, tu, io, siamo tutti sfere nel vuoto per i fisici. Io non so se voglio approfondire questo discorso qua, cioè mi hai dato della sfera nel vuoto e adesso voglio sapere quando devo querellare. In che modo? In che modo mi hai appena insultato? Tra l'altro l'ho fatto in modo che rimanesse traccia di questo. E questo rimarrà, bene, bene, questa clip rimarrà. Lo scienziato deve prendere, poi me la spieghi questa cosa qua, non me la dimentico, deve considerare solo quello. Dall'altra parte c'è il poeta, il poeta quando vede un oggetto invece si chiede cosa ci sta dietro l'oggetto. Cioè il lavoro di Elliot quando scrive La terra desolata non è mica dire la conformazione molecolare di questo bicchiere e dire quel bicchiere ha un significato, ha una storia, un simbolo e anche quello significa andare oltre quello che è il significato che l'uomo comune gli dà. E poi c'è il filosofo che cerca di mettere insieme queste due cose qua e di solito fa casino, ok? Fa casino di solito e dice un sacco di robe inutili che poi soltanto col tempo magari ogni tanto diventano utili. Quindi sì, sì, questa cosa qua è vera. Forse bisogna ritrovare veramente non soltanto la cooperazione ma anche la multidisciplinarietà. Nel mondo anglosassone questa cosa sta avvenendo perché per esempio hai citato prima la guida autonoma, ok? Che è un argomento su cui sto leggendo delle cose bellissime, cioè sto proprio studiando, è bellissimo, sono rotto un sacco di pregiudizi su quella cosa lì e stanno prendendo un sacco di filosofi per avere un approccio più, mi verrebbe da dire quasi olistico alla questione, non soltanto quindi settoriale, materiale, concreto, ma anche che metta insieme tanti premi e questo mi fa ben sperare. Sì, da questo punto di vista c'è da dire che sempre di più la società ha necessità anche della scienza come strumento per prendere decisioni e quindi fortunatamente la scienza sta inserendo sempre di più all'interno dei propri processi l'aspetto etico banalmente, perché se deve prendere decisioni per la società, cioè la macchina a guida autonoma se un neutrone centra il chip gli viene che la personcina che deve schivare non è qui ma è qui, se la investe è di chi è la colpa, cioè un neutrone che ha colpito, quindi diciamo che i team multidisciplinari servono anche a togliersi un po' la miopia dell'analizzare solo un aspetto e rendere il tutto un po' più sensato, un po' più a 360 gradi e poi di solito quando uno ha un problema da risolvere più punti di vista si hanno meglio è perché se io ho solo il mio può essere sbagliato e io sbatterò la testa su questo problema, se ho 20 punti di vista magari arriva, stavo per dire l'ingegnere ma non volevo dire, quindi arriva il chimico che ha l'idea giusta e io da fisico avevo quella sbagliata, è quello che parla di multidisciplinari fisici e ingegneri non possono sopportarsi, però a parte gli scherzi è capitato che io e i miei colleghi che erano anche ingegneri, erano fisici della materia, erano teorici e tutto, ci mettessimo lì dicendo ok tu come risolveresti questo problema, tu come risolveresti questo? Tutte soluzioni diverse perché ognuno ha il suo background, ha il suo punto di vista e alla fine poi uno l'azzeccava, non dico tutti, ma uno l'azzeccava. Credo che questo sia la multidisciplinarietà, quindi la capacità di mettere insieme questi due approcci, da un lato l'approccio empirista molto specialistico e dall'altro un approccio che mette insieme un po', crea ponti fra i diversi aperi, sia l'unico modo per rendere più resistente, forse sai dicevi giustamente, sono d'accordo è dal 1609, io forse quando mi chiedo da dove si è iniziato il pensiero scientifico, forse lo faccio tornare un po' indietro al novum organum di Bacon, ci sono delle intuizioni secondo me che poi sono state usate anche, però al di là di questo è molto giovane, è un sapere molto molto giovane, cioè è veramente giovanissima questa cosa qua, un approccio che infatti ci risulta innaturale, anche per chi se ne occupa, è un pensiero ancora che tu devi, non c'è un automatismo per il metodo scientifico, devi sforzarti di frenare i tuoi automatismi, assolutamente infatti devo combattere i miei bias cognitivi, i miei meccanismi mentali, lo faccio con delle regole che spesso e volentieri non mi impediscono di sbagliare ma almeno mi fanno rendere conto di quando ho fatto un errore, quindi la volta successiva riesco a, mi viene in mente e in questo approccio un po' più ampio ai problemi, a me viene in mente quello che poi in ambito di psicologia per esempio ha fatto Jung con Freud, cioè Freud è stato esattamente quello che ha preso gli elementi della sua materia come singoli elementi da analizzare via dicendo, Jung dicendo anche un sacco di cazzate però con uno sforzo immane ha cercato di mettere insieme quelle cose anche legandoci altri tipi di sapere, purtroppo Jung dicendo quelle cazzate di solito viene ascoltato solo per le cazzate da quelli che New Age qua, però Jung secondo me va letto perché è proprio quello sforzo lì capito, cioè dire ha ragione lo scienziato, questo bicchiere è molecole, è fisica, è soltanto questa materia e poi c'è tutto il resto che sta intorno e che forgia l'esperienza che noi facciamo del bicchiere, che non è soltanto quello della molecola, non è soltanto quello del vetro, poi non so neanche se è vetro, che cazzo di materiale è quello lì? Questo è vetro, non è cristallo è vetro Ok ok va bene, è meglio il cristallo o il vetro secondo te? Allora nella mia testa, a livello di mercato il cristallo nella mia testa è il vetro, ma nella mia testa è molto meglio uno zircone di un diamante, gli zirconi sono fra le prime rocce più antiche mai formate, quindi se io regalo uno zircone a mia moglie le posso dire che le sto regalando un pezzo di storia del nostro mondo, mentre il diamante è una che se metto su un fornello è un ottimo modo per risparmiare, allora io devo approfittarne qua assolutamente, perché il risparmio è una cosa molto molto importante, e allora vorrei ringraziare lo sponsor di questa cogitata, di questa nostra trasmissione che è Gimme5, Gimme5 è un'applicazione straordinaria che veramente a portata di dito ti permette di iniziare a fare una cosa che soprattutto per persone giovani è molto difficile, ma attenzione non è difficile perché siamo squattrinati, a volte sì, ma è difficile perché non abbiamo la mentalità di metterci via piccole somme, ci sembra che il risparmio se sempre mi lasciano 17 milioni di euro, me li metto da parte, no il risparmio invece è dire bene io ho questo a disposizione, mi ritaglio una piccola fettina e me la metto da parte, Gimme5 ti permette di fare questo con facilità, ma non solo, ti permette anche di investire quelle piccole cifre a partire da 5 euro per combattere anche l'inflazione, perché se tu prendi quelle piccole cifre le metti sotto la scacchiera, fra dieci anni quella piccola cifra se non è stata erosa dai cataclismi naturali probabilmente sarà erosa dall'inflazione e visto che l'inflazione in questi tempi insomma crescerà, è meglio avere dei piccoli investimenti che ti permettono di combatterla, quindi Gimme5 ti permette di mettere via piccole cifre avendo dei piccoli rendimenti a rischio zero, anche imparando un po' come funzionano gli investimenti con dei piccolissimi piani di accumulo. oltretutto se utilizzerete il codice sconto che trovate in descrizione oppure col comando Gimme5 in chat, entrerete nell'applicazione con 5 euro regalati, si lo so che quando dicono regaliamo soldi, in questo caso sono veramente regalati perché in quel modo lì vi permette di iniziare a esplorare l'applicazione che è fatta bene, è chiara ed è molto molto utile. Cultura del risparmio, è fondamentale, grazie a Gimme5 per la sponsorizzazione e quindi dicevamo risparmio Luca, risparmio e sai cosa succede se non si risparmia? Secondo me succede che ti estingui, questo forse è un collegamento meno riuscito di quello di prima, però vorrei tornare per un secondo a quello che dicevamo sul lasciare una traccia perché è veramente un argomento su cui in questi mesi io ci sto perdendo la zucca e mi sembra che ci sia un, com'è che si chiama, i big filters si chiamano, che sono i filtri di Fermi? Allora. Come viene chiamato? Cioè nel senso quei passaggi che a un certo punto è una civiltà, gli step, il filtro di, come si chiamano? Prova a cercare big filters e c'è proprio un nome, non è Fermi, non è Fermi, è orca miseria. Vabbè adesso ce lo dirà la regia. E questi grandi filtri che sono appunto, può essere cataclismi naturali, può essere anche la decadenza di una civiltà fondamentalmente, quindi può essere una crisi di ogni tipo, noi ne abbiamo vissuti alcuni, ok? Pensa soltanto al crollo dell'impero romano, tra l'800 d.C. e il 1200 d.C. sono 400 anni di niente, cioè in quei 400 anni. Tra l'altro stavo proprio documentandomi negli ultimi giorni, ascoltando un podcast molto carino, su quello che viene chiamato dagli storici collasso, che è il periodo fra il 1250 avanti Cristo e l'850 avanti Cristo. Sì no, il contrascusami, non è dopo Cristo, era fra il 1200 e l'800 avanti Cristo, hai ragione. Che non c'è niente, collassano tutte le civiltà tranne quell'Egizia, quindi evidentemente loro avevano gli alieni dalla loro tecnologia, certo. Però ecco, quello è stato assolutamente un cataclisma di un qualche tipo, non abbiamo ancora ben capito cosa sia. Ho visto che alcuni dicono che fosse stato un cambiamento climatico quello. Allora sì, ci sono diverse ipotesi, c'è una legata ai cosiddetti popoli del mare, che non si sa bene chi diamine fossero. Atlantide, evidentemente Atlantide. Tra cui c'erano i Sardi però pare, quindi la Sardegna che ha invaso il mondo. Immagini Shai, Shai su una barca, la lancia. Esatto, e tra l'altro questi popoli del mare potrebbero essere stati tra i primi migranti climatici, si pensa. Un'altra ipotesi è legata all'eruzione del vulcano che ha distrutto Santorini, sostanzialmente l'isola di Santorini, perché avrebbe fatto crollare la civiltà micenea che era forse quella più fiorente all'inizio e quindi nel momento in cui si è interrotto la serie e anche di scambi culturali che nell'età del bronzo era fondamentale, perché c'era stata un'accelerazione anche tecnologica in tutto il mondo, nel momento in cui si è rotta questa rete di scambi dovuta al collasso della principale civiltà, tutte le altre sostanzialmente. Il podcast, se sbaglio, è quello del post? Allora, il podcast, questo qua si chiama La fine del mondo. Sì, 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 ho presente, l'ho visto la pubblicità sul post, però non l'ho ancora ascoltato. Guarda, l'ho ascoltato ieri la prima puntata molto ben fatta e quindi stavo guardando, anche perché io quest'anno per i fatti miei mi ero guardato la questione della civiltà micenea, così nelle notti insonni diciamo, e quindi mi ha intrippato molto questa cosa ed è come dicevi tu, uno step che ha fatto da filtro alla nostra civiltà rallentandola di quattro secoli, però siamo lì. Se riuscissimo a creare un qualcosa di molto forte perché è diversificato, perché è multidisciplinare, perché è ridondante in alcune parti, se io ho un ramo solo che si sviluppa di una pianta, caduto quel ramo, morta la pianta. Se io ho invece un cespuglio intricato di rovi, muore un pezzo, ho qualcosa che prosegue. Ma non è forse questo il motivo che poi ci spinge, che ci ha spinto in passato a diffonderci sul pianeta, perché voglio dire, diffonderti sul pianeta significa evitare che un evento territoriale faccia scomparire tutto quello che conosci. La stessa cosa adesso è il fatto che cominciamo a pensare a installarci, non soltanto a visitare, ma a installarci su altri pianeti, quindi la Luna, vabbè, che è un satellite, ma anche Marte. Come specie multiplanetaria, sì. Quello che io ogni tanto faccio, però presente, da grande aspirante, diciamo, alla questione umani che esplorano tutto, perché comunque sono un astrocoso e quindi io sono contento se esploriamo tutto. Ti ci vedo a coltivare rape su Marte. Ma neanche... The Martian. Esatto, sì. Me chiede in Luca Perry. Certo, con le mie feci e quelle dei colleghi. Che era assolutamente fattibile, tra l'altro. Sì, sì, esatto. Ottimo modo per morire male da escherichia colida. Comunque, in generale... Che pessimisti, che pessimisti. In generale, appunto, io sono un grande fautore dell'esplorazione spaziale, assolutamente la appoggio, però rendiamoci anche conto che di 4.500 pianeti che abbiamo scoperto lì fuori, nessuno è bello e comodo quanto questo. E quindi forse, ok, esplorare, ok, adattarci a delle condizioni climatiche planetarie indecenti... La terraformazione, però, è che è una cosa facilissima, ho terraformato il giardino qualche settimana fa... Che in realtà con 500.000 anni di tempo si può fare. Sì, sì, sì. Quindi è immediato. Cosa ci vuole, esatto. Ah, ma non bastano quattro bombe atomiche, come dice Elon Musk. Come dice Elon Musk. Io quando l'ha detto, l'ho letto sulla stampa che aveva messo l'articolo nella sezione idee. Non buone idee. Idee. È un'idea stupidissima, però... Mi piace di Trump, peraltro, quell'idea, no? Perché non bombardiamo un pianeta con delle bombe atomiche e il fallout radioattivo sistemerà la questione? È inevitabile, è un po' la teoria del caos, no? Butti una bomba atomica là, fiorisce un germoglio di là. Poi è la strategia che gli americani, perché oramai io Elon Musk lo considero americano, anche se è sudafricano, tanto ha vissuto la pratica... Gli americani hanno questo vizietto, quando hai un problema la bomba atomica è sempre la risposta. Independence Day ha fatto scuola, ma dai, su. Ma infatti, Armageddon, voglio dire. Però almeno ha funzionato, cioè nel senso, in Independence Day manco quello, testa di cazzo, ma non fatelo. E vabbè, e vabbè. E no, è una cosa interessante questa, perché, sai, allora, ragionando in termini, anche perché, insomma, ne approfitto per dire che qui abbiamo anche il libro di Luca. Se siete di schio dintorni stasera alle 21, siamo qui all'Anneficio Conte, entrate in galleria davanti al bar e facciamo la presentazione di questo libro che parla di Star Wars. Star Wars racconta una cosa che, peraltro, potrebbe non essere mai fattibile. Cioè, tu sei un astrocoso e lo so che ti si sfrange il cuore quando magari ci pensi, però, in base a quei big filters di cui parlavamo, alcuni sono convinti che alcuni filtri siano insuperabili per una civiltà perlomeno organica, ok? Perché poi, vabbè, se un giorno riusciremo a trasferire la nostra coscienza in robot, vabbè, magari. Però finché siamo organici, ci sono proprio degli step, dei muri che sono invalicabili. E quindi alcuni dicono, è talmente improbabile che una civiltà organica riesca a superare quegli step che arrivare ad avere delle civiltà multigalattiche, multiplanetarie, multisistema, è praticamente impossibile. E tu cosa ne pensi? Sono d'accordo, nel senso che, purtroppo, più scopriamo ciò che c'è lì fuori e più ci rendiamo conto che noi siamo fatti proprio male per esplorarlo. Noi abbiamo dei limiti, appunto, fisici, biologici, che non potremo superare troppo facilmente. Se la luce, che è la cosa più veloce che c'è nell'universo, per attraversare la nostra galassia ci mette centomila anni, che speranza ho io di attraversarla? Quasi nulla. Infatti, quello che poi la fantascienza suggerisce, lo spiegone di Interstellar, trovo dei metodi per bypassare il problema, perché il problema non lo posso risolvere. Ora, la cosa interessante della fantascienza è che se voi crescete intere generazioni ispirandole con un qualcosa, ci sarà un folle tra quelle generazioni che ci prova. E la cosa interessante, motivo per cui alla fine poi avevo scritto il libro di Star Wars, è che alle volte ci riescono questi folli che ci provano e la fantascienza è capitato che non solo ispirasse tecnologie, perché quello più o meno noi lo percepiamo, cioè ci viene in mente che quando vediamo Star Trek il comandante Kirk ha il comunicatore che è il Motorola StarTAC, sostanzialmente. Quindi riusciamo a capire che le tecnologie possono essere ispirate. La cosa interessante di Star Wars è che ha ispirato delle ricerche astrofisi, cioè ha fatto delle previsioni che erano, sembravano folli alla comunità scientifica dell'epoca, ma tanto allo sceneggiatore cosa gliene fregava? Lui ha sparato una roba a caso e però qualcuno degli scienziati che è cresciuto con quella roba ha guardato in quella direzione e ha detto ma davvero non può esistere? E noi abbiamo avuto delle scoperte in tal senso. Che è il modo con cui poi la fantasia riesce a influenzare la realtà e che ci porta di nuovo al discorso che facciamo prima, no? Non c'è soltanto l'approccio che guarda il bicchiere per quello che è, ma può anche prendere un discorso simbolico, poi la letteratura è simbolismo, e quindi arrivare poi... Beh, adesso la NASA, ma anche l'ESA o il CERN stanno investendo tanto, ad esempio, in collaborazioni artistiche, ma non solo per questioni divulgative, ma ad esempio quando noi andremo su Marte servirà narrare quell'impresa, servirà un punto di vista che non sia quella dell'ingegnere di volo o del fisico o del militare che metterà nel caso piede su Marte. E quindi, così come la cultura, io odio assolutamente quando si separa la cultura umanistica da quella scientifica, è una cosa che mi dà un nervoso incredibile, cosa che in Italia si fa sempre, grazie Benedetto Croce, ma in generale noi dovremo narrarlo a 360 gradi, dovremo analizzare quello in tutti i modi possibili, e quindi la scienza e l'arte devono procedere di pari passo. Noi non avremmo avuto, mi viene in mente ovviamente Leonardo da Vinci, cioè lui sperimentava, sbagliando peraltro, nuove tecniche di affresco perché gli servivano per l'arte, però per dire Leonardo da Vinci ha inventato delle tecniche pittoriche, banalmente l'utilizzo delle ombre tratteggiate con delle linee che non sono dritte ma curve, le ha inventate perché? Perché aveva visto l'usura dei cuscinetti a sfera che era tonda, e quindi lui analizzando la scienza ha trovato uno strumento per l'arte, ma poi quello strumento per l'arte l'ha usato per disegnare i disegni anatomici, quindi la scienza, cioè serve procedere di pari passo e ispirarsi a vicenda. Quel corallo che dicevi prima, cioè nel senso la conoscenza non è una strada dritta ma è un trivellare, cioè devi far andare per tentativi, assolutamente, assolutamente. Peraltro il 18 dicembre parte il James Webb Telescope? Sì. Che aspettative hai? Allora, io le voglio avere bassissime. Ok, ok, ma partire con le aspettative basse è una buona tecnica. La mia prima aspettativa è che non esploda il decollo, la seconda aspettativa è che riesca ad aprirsi lo specchio, perché è uno specchio a ombrello, praticamente fatto di pannelli esagonali, in una struttura delicatissima. È un origami di specchi, in una struttura delicatissima che però si deve fare qualche milione di chilometri. E quindi io, aspettative basse, doveva partire nel 2006, siamo nel 21, continuano a rimandare, quindi ok, forse il 18 parte, però doveva essere il 31 di ottobre, adesso già è il 18 di dicembre. Ah, perché inizio doveva essere? Però, aspetta, se non sbaglio, l'hanno spostato in continuazione. L'hanno spostato tipo otto mesi prima del 31 ottobre, stavolta siamo veramente vicini. Ci hanno deciso, boh, allora no, otto mesi prima del 31 ottobre hanno iniziato ad avere dei dubbi. Ah, ok, ok, non so quando l'ho annunciato. E a dire, forse dopo il 22 di novembre, è annunciato, ma boh, due settimane fa al massimo il 18 di dicembre, però siccome sembra davvero la Salerno-Reggio, io ho veramente aspettative zero, se non esplode bene, poi ci sono sei mesi di viaggio per arrivare a aprirsi e speriamo che siano collimati bene gli specchi. Esatto, perché mentre Hubble l'abbiamo mandato su con gli specchi fatti male e gli abbiamo dovuto mettere gli occhiali, lì potevamo raggiungerlo perché Hubble è a 540 chilometri di distanza. Lì no. È un milione e mezzo. Perché aspetta, dov'è che va? Il James Webb va in un punto a un milione e mezzo di chilometri. Fa la fionda con la Luna, se non sbaglio. Allora, fa un pezzo di fionda con la Luna, credo di sì, perché deve raggiungere uno dei punti comodi dal punto di vista gravitazionale tra l'attrazione gravitazionale Terra-Luna-Sole in modo tale che rimanga fermo in quel punto, cioè ci sono questi punti chiamati i lagrangiani in cui l'attrazione dei tre corpi va a pareggiarsi, diciamo, e quindi se tu metti una roba lì con minima quantità di carburante la mantieni lì. Ok. Quindi noi la dobbiamo mandare lì. Però sono milioni di chilometri e quello se sbagli, sbagli, cioè anche l'hai buttato. Ce ne hai uno, perché non è che abbiamo quello di riserva. Non l'hanno fatto la ridondanza qua in questo caso, niente ridondanza. Abbiamo uno, sei mesi di viaggio, ok, bassa aspettativa. Io immagino l'anima, cioè proprio lo stato d'animo di quelli che si avvicinano a questa cosa qua, che ci hanno speso l'intera vita. Assolutamente sì. Porca miseria. Sì, 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 cioè io lo dico sempre, i progetti sono almeno 30 anni di lavoro di migliaia di persone. Quelle migliaia di persone si suicidano tutte se il James Webb esplode. Pazzesco. E quindi quando, perché è capitato che le sonde andassero molto molto male, magari per un errore umano di un deficiente, cosa che è successa, io gli dico sempre che spero lo abbiano messo a pulire la trina in Siberia, cioè perché ha rovinato la vita a migliaia di persone. Quindi nervosismo per il James Webb. C'è del nervosismo, sì, sì, sì. Io sì. Allora mettiamo il caso che vada tutto bene. Sì. Quindi si apre e fa sei mesi entra in attività. Allora si apre, tutto funziona. Noi a distanza di 30 anni continuiamo a fare scoperte sensazionali. Una di quelle era quella anticipata da Star Wars, ad esempio abbiamo trovato a febbraio di quest'anno abbiamo scoperto un grappolo di buchi neri, non sapevamo potesse esistere. Star Wars l'ha inventato 20 anni fa e noi l'abbiamo trovato a febbraio di quest'anno con Hubble. Aspetta, in Star Wars dove c'è il grappolo di buchi neri? Solo nei romanzi. Ah, ok, 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 io non sono andato così a fondo. C'è il grappolo di buchi neri, però se hai visto solo lo spin-off… Sì, l'ho dimenticato velocemente. Hai fatto bene in realtà, ma a un certo punto… Quest'è una sopravvivenza mentale. Certo, loro nel Maestrom, che è quella specie di vortice che c'è fuori dal pianeta Kessel, esatto, c'è uno, un buco nero, anche se è luminoso, però è un buco nero, con fuori il verminone che… Ah, ok, ok, sì, sì. Quello è uno dei grappoli, cioè è uno dei buchi neri del grappolo di buchi neri che nei romanzi viene descritto esserci al centro del Maestrom, di questo vortice cosmico. Cioè è difficile immaginarselo un grappolo di buchi neri? Sì, perché noi eravamo convinti che se hai tanti buchi neri vicino, si mangiano l'uno con l'altro, a un certo punto diventa un bucone enorme, anche perché appunto sono le cose più attraenti che abbiamo. Attraenti non in senso estetico, però… No, no, sono nere su nero, è vero che il nero va su tutto, però non sono troppo attraenti, ma diciamo attrattive, mettiamola così, e quindi immaginarci una struttura diciamo stabile di tanti buchi neri, era un problema anche teorico, però l'abbiamo trovata. L'abbiamo trovata con Hubble che è vecchio di 30 anni e ha una tecnologia che rispetto al James Webb fa schifissimo, eppure nonostante questo, se noi cerchiamo immagini di spazio su Google, immagini, tre quarti sono fatte da Hubble. Quindi James Webb è non una generazione dopo, ma quasi due o tre generazioni dopo, può osservare cose che Hubble si sogna, quindi l'aspettativa poi è altissima una volta che si apre e funziona. Quindi anche tipo ricerca esopianeti, cosa già immagino… Potremmo potremmo vedere per davvero gli esopianeti, finora noi di esopianeti su 4500 ne abbiamo visti tipo 51, ma nel senso che vediamo un pixel luminoso, una schifezzina in un'immagine tutta sgranata. Il James Webb potrebbe addirittura portarci a vedere, non dico bene, ma vedere non un pixel. Una buona definizione. Dovrebbe essere utile anche per lo studio delle radiazioni cosmiche di fondo? Allora no, per la radiazione cosmica di fondo no, perché serve un altro spettro elettromagnetico, però ad esempio il James Webb hanno allargato il più possibile lo spettro che va a indagare, indaga molto bene gli infraroscopi. Come si chiama l'infraroscopio? Come si chiama lo strumento che viene utilizzato? No, tu pensi all'interferometro? L'interferometro? L'interferometro è quello delle onde gravitazionali. No, è vero, è vero, è vero, è onde gravitazionali. E tra l'altro anche lì abbiamo questo progetto che si chiama l'AISA, anche se poi l'hanno chiamato Elisa, poi di nuovo l'AISA comunque, in cui avremo tre satelliti che distano fra loro 5 milioni di chilometri l'uno all'altro per vedere onde gravitazionali nello spazio. Cose fantascientifiche, anche lì se li stanno rimandando in continuazione, però ecco, è l'altra Salerno-Reggio, anche quella lì. Ecco, abbiamo dei progetti che da qua a, diciamo, 15 anni, 20 anni potrebbero rivoluzionare le nostre conoscenze del cosmo e quindi aspettative alte. Però sono fragili. Sono fragilissimi. Sono fragilissimi. I tre satelliti di Elisa non si possono muovere per più di una frazione di millimetro e sono nello spazio, a 5 milioni di chilometri, e non possono... Cos'è un laser fondamentalmente? C'è un laser che parte da uno e arriva all'altro e il percorso del laser è quello che ci dice se è passato o non da gravitazionale, che ha stiracchiato o no. Quindi loro devono rimanere tra loro relativamente immobili per frazioni. Il LIGO, quanto quanto è il laser? Allora, 4 chilometri, quello di LIGO, Virgo sono 3. Quello italiano, diciamo, sono 3 e lì, ad esempio, si parla di frazioni di milionesimi di millimetro per vedere se è passata l'onda gravitazionale. Lì c'è un sistema di pendoli che si autosmorzano in modo tale che lo specchio sembri sempre fermo nonostante le cose sismiche, cioè le onde sismiche, eccetera, e nonostante gli aerei e gli elicotteri che è talmente sensibile che percepisce anche il passaggio dell'elicottero. Nello spazio però, cioè, come fai? Non è che metti dei pendoli appesi a qualcosa. Tipo, è un gimbal incredibile. Esatto. Tra l'altro gimbal che sono nati per l'esplorazione spaziale. Ti tengo a far presente perché era la bussola delle navette spaziali. Che figata. Perché quando sei nello spazio, come fai a sapere se hai girato a destra o a sinistra? Le stelle sono troppo lontane e non te ne accorgi. La Terra puoi non vederla e quindi l'unica cosa che avevi era il giroscopio. Tu lo iniziavi a far girare lungo una direzione e tutti i cambi di direzione che facevi erano tenuti a mente dal giroscopio che puntava sempre la direzione originaria. Che figo. Oggi abbiamo le action cam. E poi ci sei tu che usi un gimbal per te nello fermo. Sai che io uso un gimbal bellissimo, lo metto sul tavolo e ci metto il cellulare. Cioè, io lo uso alla grande il mio gimbal. Come un treppiede. Esatto, esatto, un treppiede. Ho un gimbal molto molto ben fatto che però uso come treppiede. L'ho usato una volta al matrimonio mio per filmare delle cose, poi da allora treppiede. Sai che, allora, c'è un modo di dire legato a questa cosa che è legato a Inception. Alla scena di Inception in cui c'è da corrompere l'assistente di volo del volo e c'è il giapponese che dice ho comprato la compagnia aerea. Cioè, risolvere con una soluzione estrema. Esatto, esatto. Magari un giorno mi servirà di nuovo il gimbal. Per adesso no, per adesso no, per adesso no. Per l'altro sappi, prima di chiudere, sappi che, non so se forse te l'ho detto, però il primo libro che ho scritto nella mia vita, ok, che è uscito nel 2014, è un libro di fantascienza, i pianeti impossibili, fantascienza filosofica. Me lo dicesti. Sappi che uscirà nuova edizione a ottobre e quindi poi io voglio farti del male mandandotelo. Perché è un libro che ti farà malissimo, perché io proprio me ne sono strafottuto di qualsiasi credibilità scientifica, perché i pianeti sono letteralmente simbolici. Però vorrei, io ho un sogno, ho il sogno di tu che leggi in diretta quel libro. E muoio. E vedere le tue reazioni. È un po' come vedere la mia reaction a gravity. Ti dico solo una cosa, c'è un pianeta, ok, che è un pianeta gigantesco e rigoglioso, è tutta una foresta, ha un problema questo pianeta, questo pianeta il suo, diciamo così, il suo giro intorno alla stella, da un punto di vista fisico lo porterebbe a finire dentro la sua stella, peraltro è in una stella doppia se non sbaglio, se non ricordo male. Certo. Ci aiuta sempre. Ci aiuta sempre, è figo, è figo, è una stella doppia, cioè nel senso, così puoi dire veramente che è giramento di coglioni. e praticamente la popolazione di questo pianeta è tutta fatta di insetti, ok, solo insetti. Sì. E ovviamente cosa succede? Succede che quando il pianeta sta per cadere, diciamo così, questi insetti hanno una sorta di mente comune che porta a dare il colpo di culo al pianeta quando sta per... Guardate la faccia! La faccia mi è piaciuta tantissimo. Tranquillo, il pianeta è di polistirolo. Certo. Ovviamente, ovviamente, tutto questo è un simbolo, non c'è nessun tipo di... Non c'è nessun tipo di velleità, di credibilità scientifica, però queste facce vorrei vederle mentre leggi proprio... Quindi io dirò... Facciamo delle sessioni di Riex. Dirò a Poliniani di mandarti la copia, così vediamo cosa succede se proprio mi togli il saluto. Volentieri. Bannato. Ne approfitto, sappiate che i bundle per acquistare il libro ci sono, li trovate in descrizione, e se fate la pre-vendita trovate anche degli sconti enormi, poi uscirà insomma a brevissimo. Luca, è stato molto figo chiacchierare, non sapevamo di cosa parlare, abbiamo parlato di un po' di cose, quindi bene, guardati la fondazione, poi voglio parlarne, voglio parlarne, cioè nel senso veramente figo, veramente figo, anche perché è vero, ho visto anch'io parlare discordanti, ma io quando ho finito due puntate ero così... non me l'aspettavo, non me l'aspettavo, una cosa così curata e fatta bene. Però considera che io ho sentito pareri discordanti anche su Dune, e poi a me è piaciuto molto, quindi... No, no, va bene, dai, allora poi mi farai sapere. Se siete in live, non uscite perché adesso, oltre a stare un po' ancora a chiacchierare, apriamo anche la chat vocale, quindi se siete abbonati e siete su Discord, potete entrare in chat vocale, la chat è lo sgabuzzino vocale, quindi potete entrare tranquillamente, e insomma non lasciateci. Se siete indifferiti, invece, mannaggia voi, sarebbe stato bello avervi qui in diretta insieme, però insomma, come sapete, ci trovate qua due volte al giorno in live, con la rassegna stampa e poi Daily Cogito, mercoledì abbiamo anche Gennaro Romagnoli, lo tireremo fuori dalla botola a Gennaro, così insomma viene a farci un saluto, e basta. Nel weekend abbiamo anche la prima maratona, visto che abbiamo superato i 1500 abbonamenti attivi, se arriviamo a 2000 entro giugno, entro giovedì, entro giugno, entro giovedì, la maratona sarà di 48 ore, quindi insomma, se volete farci del male, venite a trovarci. Sai che è pericolosissima questa cosa? Già fatta, già fatta, a gennaio abbiamo fatto già la prima maratona di due giorni. Ma poi c'è uno step per cui diventa 72, 1,96, ah vabbè. Sai che su Twitch c'è chi lo fa? Sì, sì, lo so che c'è chi lo fa. E io ogni tanto, tipo adesso c'è Gigi Schianto che è 12 giorni in maratona, sta da 12 giorni e il suo tempo futuro è tipo di 300 ore, e stai e dici, no, no, quindi va bene, andrà così, andrà così. Perciò, grazie mille di nuovo per la chiacchierata, è stato fighissimo, se siete a Schio venite a trovarci, se avete ascoltato indifferita questa roba qua, il mio invito di venire a Schio è totalmente inutile. È inutile, ma... Però va bene, è così, l'abbiamo fatto comunque. Se siete in live. Per tutti gli altri, condividete la puntata, sotto trovate i link per il libro di Luca, i social di Luca e tutto quanto, insomma, trovate anche i suoi video. Fate i bravi, buona serata, buona giornata, non ci estingueremo, esploreremo lo spazio da soli, e andrà bene così. Che ottimismo commovente!